La mazzurca dell'inomorati che noi volentieri la dedichiamo a tutti voi e a tutti noi, ben sapendo che tutti noi da quelli di 70 anni a quelli di 60 anni, 50 anni, 45 anni, 40 anni come me, fino a quelli di... Guardate, la mia faccia sembra vecchia, il cuore è giovane, l'età è giovane, sono i strapazzi della vita. Signori, gli amici vi offrono volentieri per tutti noi ragazzi di 16 anni che sono qui, fino a quelli di 80 anni, la mazzurca degli innamorati. Essere sempre quel cuore aperto a tutti. Amici, la mazzurca degli innamorati. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.